Dovranno aspettare ancora un po' Agnisseni per la riapertura della piscina comunale. La vostra attesa sarà premiata. Questa è infatti una delle frasi che i cittadini possono leggere da via Roccisterna e la recinzione che è stata creata attorno all'impianto. Dei messaggi alla città da parte di chi si occuperà della gestione dopo l'affidamento dei mesi scorsi. I lavori di rifacimento dell'impianto natatorio, anche per renderlo confacente, alle indicazioni della Federazione Italiana Nuoto e Malate durante l'emergenza Covid, nonché per adeguarle ai più moderni standard costruttivi che garantiscano condizioni climatiche ottimali e nello stesso tempo, consentano di limitare il più possibile il consumo energetico, ha comportato la necessità di richiedere al Comune il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai vigenti parametri urbanistici comunali, spiega Fabio Amato, responsabile amministrativo dell'RT Caltanissetta Sportiva, nonché legale rappresentante della Chiran Nuoto SD. Si tratta di un iter piuttosto articolato e complesso, aggiunge, che si concluderà solo dopo l'adozione di un'apposita delibera consigliare. Intanto sarebbero al lavoro per la rivisitazione degli impianti termoidraulici, segnatamente alla parte che afferisce al riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, si precisa nella nota, alla luce dell'aumento stratosferico non prevedibile fino a qualche mese fa del costo dell'energia. Questa in sintesi conclude le ragioni di un rallentamento nel cronoprogramma dei lavori che avevamo immaginato ma che si è reso necessario in considerazione del mutato quadro macroeconomico di riferimento.